È un miracolo se non muovi. Io non so quello che hai combinato. Avrei voluto vedere cosa avresti fatto tu al mio posto. È tutta colpa tua. Colpa mia. La colpa è sua. Cosa c'è entro io? Adesso è mia. Adesso sempre la colpa è mia. Intanto adesso noi non possiamo andare avanti col numero perché non c'è Giovanni. Guarda, ha la stessa corporatura. Già. Che cosa? Tipo solito. Proviamo lui. Tipo l'atleta. Sì, sì. Ma dico non capisco niente. Giovanotti, giovanotti, ma dico... Ma a che gioco giochiamo? Ma che cosa aspettate? Non si rompe mica, no? Andiamo. Su. Porco safari. Prendilo per i piedi. Sì. Ma questa è un'aggressione. È un'aggressione. Vai. Mi spezzano. Più in alto. Più in alto. Più in alto ancora. Su. Andiamo. Ponte. Giro. Ma dico, ma che scherzi sono questi? Lo possiamo lanciare? Eh? Lanciare? Ma dico... Allora? È nato bene così? Sì. Possiamo continuare? Sì, sì. Ma tende a non ammazzarlo, eh? C'è il cielo, direttore. Ma dico... Ma cosa, ma cosa c'è? Ma cosa vi fate? Ah, no, così no, così no. Soffro di vertigine. Ah! Ah! Oh! Via! Questi sono quelli del secondo piano. Si sono fermati al primo. Ho volato. Ho volato, aiuto. Aiuto. Adesso proviamo il piede. Ma mettetemi giù. Mettetemi giù. Ma che facciamo? Aiuto! Ecco fatto. Ah, hai visto? Adesso andiamo a dormire. Non è tanto semplice. L'altro è quasi morto. Andiamo, eh.